Come si è bello? È bellissimo qui. Penso che da un po' di anni che non venivo e realmente ha cambiato tanto, ha cambiato sempre meglio. Sentiamo sempre che siamo felice e frutto. La ospedalità di Pova è sempre bella. E siamo felici di essere qui. È una grande emozione. Vivere con emozioni. Qual è l'intervista di Alisson? Allora, io conosco bastante Alisson perché ho lavorato insieme a lui in Brasile, e lui è piaciuto tanto in questo periodo. Tra i due penso che Alisson si trova nelle miglior condizioni di stare nel nazionale. Qual è l'intervista di Alisson? Affirma che la nazionale si trova benissimo. È un ambiente fabuloso per tutti i calciatori, perché ha tranquillità in questo momento. E ogni volta che lui è insieme ai calciatori, vede che la volontà è sempre grande di vincere qualcosa con la malha brasiliana. Noi speriamo che la nazionale vada bene, perché è cresciuta tanto in questo periodo. Speriamo che, inizio che è sempre difficile vincere un mondiale, loro crescono a iniziare bene, così a avere più tranquillità ancora. Penso che il passato è passato. Il calcio è capitato di tutto. tra di noi è perdere quella partita contro la Germania di 7 a 1. Abbiamo perso di 7 a 1, però penso che adesso la mentalità e anche i calciatori hanno voglia di dimenticare questo passato e fare bene adesso in attualità. in questo momento è il numero uno per noi. Un po' di temore sì abbiamo, perché Lemar in questo momento è il numero uno per noi. Penso che lui stava facendo benissimo nel Paris Saint Germain prima di fare male. Però penso che lui ha tempo ancora di stare bene per i mondiali e di fare tutto quello che lui sa fare. ormai la mia. Ormai la mia. Ormai la mia. omai la mia. Grazie a tutti